E qui sono già le 17 e 49 minuti primi a Radio Napoli M Live con il programma Musiche e Parole e adesso vi vorrei proprio così, c'è una persona, una personcina molto carina che lei è stata un po' di tempo con noi, poi dopo così come si suol dire in inglese she disappeared, non l'abbiamo più sentita e in questi giorni si è fatta sentire chiedendomi gentilmente se potevo andare in onda sono due brevissime sue poesie, una in italiano e l'altra nella lingua di Molière sto parlando di Agnese Monaco, lei si diletta a scrivere e fa delle cose molto molto belle che noi vorremmo magari che lei ci facesse parte di queste sue cose belle e intanto lei ci ha mandato queste, diciamo, due piccole poesie e noi adesso andiamo ad ascoltarcele Buonasera a tutti quanti, sono Agnese Monaco e ringrazio Tony Esposito per la sua disponibilità nel suo programma Musiche e Parole e messo da Bruxelles per Radio Napoli M Live io inizierei nel presentarvi 3 del mio nuovo libro edito dall'editorial Celer mi sembra una po' acquistabile in tutte le librerie d'Italia, d'Europa, America Latina e Giappone il libro è una raccolta di poesie multilingua e io quindi inizierei con la parte francese che è il mio signore in onore, Excel, e inizierei con Je suis un cristal Je suis un cristal, come un page pour voir, in finit de lequel c'est, dans votre miroir Grazie mille, merci beaucoup e adesso invece continuerei con la parte italiana sempre contenuta in triade a mia sermone con tutore Ancelere e la poesia breve che ho scelto è Specchio Specchio cristalino, come fa Jim Blessing, mi mostro in te, nel suo abito, infinito nella mente Io continuo a ringraziare tutti quanti per l'ascolto, spero di avermi spuzzicato in qualche maniera Buona serata Bene, speriamo che anche noi ti abbiamo stuzzicato con queste tue due bellissime, brevissime poesie una in francese e una in italiano e poi hai un po' così pubblicizzato le tue opere che possono trovare in diverse città del mondo, ho sentito anche il Giappone insomma, non credo che tu l'abbia anche tradotto in giapponese, chissà, speriamo Ma, Agnese, un abbraccio fortissimo e vieni a trovarci ancora qui a Radio Napoli M Live nel mio programma Musica e Parole E adesso, ragazzi, andiamo con un bellissimo brano anche questo è dedicato, dedicato